Sono Antonio Faccioni, sono amministratore delegato della PASO, presentiamo la famiglia dei sistemi di evacuazione, Evac, che è la famiglia dei POU, in cui in questa famiglia abbiamo introdotto anche una multimedialità, quindi l'abbiamo reso più smart il nostro POU con la possibilità innanzitutto di ampliare la possibilità di fonti musicali da poter collegare nella macchina, ma soprattutto la possibilità di poter monitorare questi sistemi anche attraverso un'app e tramite questa app poter visualizzare tutti quelli che sono i guasti dei sistemi, quindi nelle varie macchine tenere sotto controllo i punti critici del funzionamento. L'altra novità che presentiamo qui in fiera è gli amplificatori che utilizzano un nuovo semiconduttore che è il GAN, quindi sono dei semiconduttori GANFET al posto dei MOSFET al silicio. Con questa tecnologia riusciamo a lavorare a delle frequenze elevate, 400 kHz e soprattutto ha delle tensioni molto elevate, quindi siamo sui 300 V. Questo permette di realizzare degli amplificatori con delle uscite a 100 V utilizzando un solo amplificatore invece che due amplificatori a ponte, quindi consente di ridurre gli spazi e soprattutto di raggiungere delle elevate prestazioni rispetto agli amplificatori tradizionali. Questo è un prototipo che stiamo presentando, verso fine anno potremo uscire per andare in produzione con questo nuovo amplificatore. Sarà un amplificatore che potrà essere certificato EN5416 proprio per essere impiegato in sistemi di evacuazione e audio.